Ecco la mia testimonianza per il progetto Career Stories della SUBSI. Poter implementare il contenuto saliente dell'NBA presso il Dipartimento delle Finanze dell'Economia, più precisamente la divisione dell'economia, è stato uno strumento sensibilmente funzionale. Ho potuto infatti sfruttare vari strumenti nei miei compiti come la liquidazione di sussidi fino a un milione di franchi, il monitoraggio delle aziende e dei rispettivi conti annuali, così come la revisione in azienda con i CEO e i CFO, oltre alla compliance insieme ai decreti esecutivi legati alla legge per l'innovazione economica. Da quest'anno, indubbiamente grazie anche al titolo conseguito tramite l'NBA, rivesto il ruolo di compliance officer presso PostFinanzium, uno degli istituti finanziari principali della Svizzera. Sostanzialmente eseguo chiarimenti di livello qualitativo sulla relazione d'affare di clienti sia commerciali che privati, al fine di applicare quanto previsto dalla legge federale sul riciclaggio di denaro, oltre all'implementazione degli obblighi fiscali negli ambiti legati al FATCA e allo scambio automatico di informazioni. Il progetto in azienda mi ha permesso di ragionare un business model direttamente con i dirigenti aziendali. Nel nostro caso abbiamo addirittura potuto collaborare sinergicamente con il Politecnico federale di Zurigo. Il contenuto dei moduli inclusi nell'NBA mi ha permesso di assimilare un'ampia conoscenza per 160 gradi. Si tratta di una formazione singolare poiché implementa aspetti innovativi che oggigiorno sono un fattore chiave al fine di restare proattivi nella nostra società di economia in continua evoluzione. L'NBA con il Measuring Innovation ti aiuterà a sviluppare nuovi stimoli ed è un percorso che consiglio a chiunque ambisce a un futuro promettente con un ruolo dirigenziale.